Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Can you hear that dream in the ocean? E porca di quella miseria! Ne vedo di oggi ragazzi! Parleremo di un trucco con l'arco! Ragazzi vi dico solo che usato bene si possono fare kill infinite! È una cosa assurda, non vedo l'ora di farvela vedere! Ma parleremo anche dei primi dettagli ufficiali della World Cup ragazzi! Li hanno rilasciati da pochissimo, adesso vi voglio informare e... Incredibile ragazzi! Sembra esserci un nuovo stile per la skin! Cuore nero! Quindi porca miseria ragazzi! Video super super incredibile! Voglio però ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice CREATOR! XIUDERONE! Nello shop! Grazie ragazzi per il mega supporto! Mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! L'avete già vista però me la faccio raga! La domandina raga me la devo fare! L'avete già vista ma come ti sembra la season 8? Dai ragazzi ditemi un po' Oi siamo nella settimana 6 raga! Mancano 30 giorni andata è season 8 quasi terminata ragazzi! Come vi sembra fino adesso questa season? A parer mio non è male eh! La season è bella! È molto bello tutto il comparto grafico! Mi piacciono anche le skin! Sento comunque ancora la mancanza di un evento! Mi manca! Non possono farmi chiudere una season senza un evento! Una roba che succede in game! Nel senso non lo so! Belle tutte le side story! Gli scavi, l'elicottero, le skin segrete! Però secondo me un evento manca! Ditemi ragazzi la vostra qua sotto nei commenti che sono super super curioso di sapere cosa ne pensate! Ma quindi! Ciancia alle bande! E banda alle ciance! Andiamo subito subito a vederli allora! Questi nuovi scavi ragazzi! Eccoli qua in alcune diapositive davvero molto dettagliate molto interessanti sono ovviamente gli scavi vicino alle sponde del saccheggio vicino all'ex Loot Lake ragazzi! E come già avete visto di certo! E come già vi avevo anticipato! C'è qualcosa di molto molto curioso! Che è apparso proprio sul fondo di questa voragine ragazzi! Sto parlando ovviamente di quelle barre di metallo! Che non si sa che cavolo siano ragazzi! E' una cosa incredibile! Io ve lo ripeto! Secondo me sono collegate in qualche modo al bunker! Facciamo un salto veloce nella season 4! Quando facevo i video sul bunker che era appena stato scoperto! Qualche giorno dopo fu scoperto al... Adesso non ricordo bene il mese in cui fosse! Ma qualche giorno dopo riuscimmo ad entrare con il drone nel bunker o comunque utilizzare un'angolazione che ci aveva svelato che in realtà il bunker ha delle stanze! Probabilmente dei tunnel! Arrivati poi alla season 7 abbiamo visto l'altro bunker quello in basso alla mappa nel bioma di ghiaccio ed è probabile che i due bunker siano collegati! Anche perché nella season 5 del Pass Battaglia c'era lo spray del labirinto! Non so se ve lo ricordate! Si parlava infatti di labirinto sotterraneo nella mappa! Questo ragazzi potrebbe veramente essere una parte fondamentale di questi tunnel sotterranei che dovrebbero ipoteticamente essere sotto la terra! Io non lo so ragazzi! Qualcosa c'entra sicuramente ma ancora non abbiamo informazioni aggiuntive! Se qualcuno di voi ha qualche ipotesi cavolo la scriva qua sotto raga che sono troppo curioso di sapere che cosa ne pensate! Curiosità invece! Guardate ragazzi! Queste sono le tre aree di scavo! In realtà ce ne sono quattro assegnate qua! Eh sì! Perché dovrebbe arrivare addirittura la quarta area di scavo tra il palmetto no il palmetto buonanotte il come diamine cavolo si chiama cioè il quartiere e il parco pacifico quindi se andiamo a notare è un caso sono tutte collegate trasversalmente con una linea se volessimo tracciarle magari è un caso magari no quindi ragazzi una curiosità in più che andremo ad approfondire anche quando avremo delle immagini ufficiali del quarto sito di scavi ma andiamo avanti e parliamo anzi guardiamo qualcosa che ha dell'incredibile ragazzi il nostro arco una delle armi più particolari di fortnite arma esplosiva utilizzata in questi giorni molto più assiduamente soprattutto dai pro player che ragazzi tirano fuori delle giocate davvero assurde guardate questa clip ragazzi siamo in un end game come vedete questo parte palloncini e arco e parte il disastro ha già fatto una kill e poi comincia ragazzi pom 100 di danno a 1 pom kill e sono 2 guardate è assurdo ragazzi ma guardate cosa succede è incredibile ma anche molto intelligente questa tecnica di gioco guarda qua danneggia addirittura il terzo boom e sono 3 kill 3 punti easy così cioè tutti si scanano questo qua è bello tranquillo in alto che spara con l'arco raga easy guardate la safe come piccola riftano tu hai anche la possibilità ovviamente di tenere in mano le armi quindi minchia cioè puoi colpire la gente che si rifta sopra di te perché è leggermente più alta rispetto a dove arrivano i palloncini e poi ricomincia tranquillo basta che le miri boom 100 di danno da una distanza assurda attenzione alla safe togli un palloncino torna in safe adesso gli riftano sopra in 3 guarda eh 100 di danno ancora cioè toglie tutto lo shield raga guarda 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 cioè ma dai ti riftano in 3 parti con pump mitraglietta te li fai perché questi sono veloci ragazzi quindi si sganciano subito quindi oltre ad obbligare gli avversari a scendere più velocemente hai anche la possibilità di colpirli e qua lui va avanti 100 di danno ancora adesso io non vedo in quanti siano penso che siano 15 persone 4 kill con questa lui atterra adesso si è fatto 4 punti così sta facendo ovviamente le qualifiche per la world cup è ovvio adesso la clip si sposta lui riesce a sopravvivere no non è ancora finita aspetta non è ancora finita minchia pom poi tiri giù tutto assurdo ragazzi guarda guarda pom 100 di danno ancora secchi qua gli è andata bene al tipo riesce ad arrivare alla fine sono dentro in 3 qua per un pelo non si fa il tizio che glielo fa quello sotto ma guardate cioè proprio easy lui sempre palloncini e arco pulito pulito aspetta che la safe chiude il tipo il tipo esce e chiude la partita così ragazzi io penso che questa tecnica sia davvero super super OP provatela se avete modo di provarla perché ha un effetto devastante assolutamente penso che la proverò anche io perché no magari mi esce qualcosa di carino ma andiamo avanti ed eccolo ovviamente uno dei nuovi punti super interessanti per la patch 8.3 che arriverà prestissimo non sappiamo se oggi o giovedì non lo so ragazzi non è ancora ben chiaro ma arriva ovviamente l'avete riconosciuto è il veicolo di respawn arriva finalmente nelle notizie ufficiali proviamoci un'altra volta rianima i compagni di squadra eliminati al furgone di riavvio quindi lo chiamano furgone di riavvio mi fa schifo come l'hanno chiamato però va bene vi ricordo ragazzi ci sono tanti furgoni di riavvio in giro per la mappa giocando in squad e utilizzando una tessera una respawn card per un totale di tre volte a partita come massimo potrete rianimare un vostro compagno di squadra che verrà appunto riportato in game con 75 proiettili medi una R bianco e 100 di legna quindi comunque sarà pronto per fightare ed eventualmente proteggersi ovviamente ragazzi abbiamo anche un'altra immagine che è quello che succederà sopra il furgone furgone animato ovviamente non vediamo l'ora di vedere questi furgoni in azione che sembra ovviamente logico saranno utilizzabili solamente nelle partite in squad e forse anche in duo non riesco a farvi vedere ragazzi lo stile di cuore nero ve lo faccio vedere però domani mattina per adesso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi intanti al canale noi ci vediamo alle 13 in arena ciao